Di nuovo qui all'Istituto Zootecnico, ormai è praticamente un appuntamento settimanale. Tutti sabati mattina infatti ci sono persone che arrivano da diverse parti della Sicilia, in questo caso l'azienda Inca Savi, che viene esattamente da Cacca. Da noi nascono gli animali, da noi si allevano, noi li macelliamo e noi li trasformiamo. Quindi abbiamo le fattrici, abbiamo l'allevamento di bovini e tengo a precisare di suini. Mio figlio si occupa della parte sanitaria perché è un veterinario, il dottore Iandelli. I nostri animali sono allevati con un mangimi fatti da noi, abbiamo il nostro mulino. Ci racconta la filiera corta, ci racconta una produzione che sa di eccellenza e che rappresenta un'eccellenza, dove si sono ben coniugate le innovazioni dei ragazzi di seconda generazione, tra cui uno veterinario che si occupa di sicurezza, con la tradizione. Quella tradizione ha portato a traportare dalla tavola di casa propria agli scaffali, qui all'Istituto Zootecnico, perché quegli spiedini, che prima erano rivolti soltanto ai loro figli, adesso sono a beneficio di tutta la comunità. Mangia come un padre, mangia sano, mangia siciliano.